In sala Birolia Verona si è tenuta la mostra non come, ma quello. 14 artisti si sono messi in campo per raccontare attraverso l'arte la forza della scelta di chi apre la propria famiglia all'amore con l'affido o l'adozione. Questa mostra è nata nel quarantesimo di Famiglie per l'Accoglienza. Volevamo raccontare come questa storia di accoglienza in famiglia era un'esperienza che ha toccato noi e era viva anche oggi. E quindi abbiamo chiesto a 14 artisti, pittori, scultori, musicisti, scrittori, di andare nelle nostre famiglie e raccontare con la loro arte quello che li aveva toccati, che li aveva commossi. L'incontro tra la gratuità e la bellezza. E da lì è nata questa mostra. Qual è l'esperienza di Famiglie per l'Accoglienza? Famiglie per l'Accoglienza è un'amicizia di famiglie che aprono la loro casa e dicono a un estraneo vieni a casa mia, c'è posto anche per te e tu sei un bene per me. Un'esperienza di famiglie che nell'affido, nell'adozione, nell'ospitalità delle ragazze madi, di alcuni adulti hanno fatto l'esperienza che il loro bene poteva essere condiviso. E ci sono aiutati nel vivere questo perché è anche un sacrificio, non semplice, non è romantico ma è un'avventura umana che fa crescere noi innanzitutto. Ed è questo l'altro motivo per cui è nata Famiglie per l'Accoglienza. Raccontarlo a tutti come una strada possibile. Come cambiano i ragazzi e le ragazze accolti? Allora, si parte da una ferita, da un abbandono a volte, da una mancanza e quindi questa va innanzitutto ascoltata. Il primo gesto dell'Accoglienza, ci diceva Don Giussani, è la condiscendenza. Il fatto che un adulto scende là dove sono gli anfratti e le spigolosità dell'altro e cerca di ascoltarlo e di condividerlo. E in questo, misteriosamente, nel tempo, a volte con grandi sacrifici e con passaggi difficili, viene fuori il bene che c'è dentro. Perché il cuore di ogni persona, anche di ogni bimbo accolto, di ogni ragazzo accolto, domanda la felicità e attende qualcuno che lo abbracci. A colpire il visitatore, i disegni coloratissimi di una delle ragazze accolte che manifesta con la luce e la gioia tutto il suo amore per la vita e i post-it con i messaggi dei ragazzi delle scuole. Nelle foto esposte, le storie di coraggio di chi ha aperto il cuore all'altro, mettendosi completamente in gioco e facendo rifiorire con fiducia e con qualche difficoltà vite segnate dal dolore e dalle ferite. Entrando in mostra, c'è un pannello con dei disegni molto colorati. Di chi sono e cosa rappresentano? Sono i disegni di una ragazza speciale che è stata accolta molti anni fa in una nostra famiglia, era stata abbandonata e dentro questa famiglia è stata proprio, come dire, accudita e quindi nei suoi disegni lei esprime luce, esprime colore, esprime una gioia ed è questa quella che ha trovato in questa famiglia che l'ha abbracciata e accompagnata, ha tirato fuori il suo talento. Poi c'è una foto molto rappresentativa di Marina Lorusso con un gruppo familiare molto speciale. Marina Lorusso dice che il fotografo coglie qualcosa che la realtà innanzitutto apparentemente non dice e quindi lei ha voluto fare questa foto di una famiglia, papà, mamma, bambino, bambino accolto dopo una storia di abbandono dolorosa con un handicap e lei ha scritto la mamma accoglie, il padre custodisce, il figlio non teme e questo figlio che quando era in un istituto sembrava non poter camminare, non poter parlare, non comunicava, invece con loro è diventato un ragazzino pieno di vita che con i suoi tutori va a sciare, che va a scuola, che incontra i suoi compagni, che è anche la sua grinta e ha voluto scrivere dettandolo alla sua maestra di sostegno la sua storia e ha detto quando lui veniva io ero fermo ma lui mi aggordava e mi sentivo vivo. E questo papà andava in pausa pranzo a imboccarlo ed è nato questo legame meraviglioso. Assolutamente, perché non avendo figli dicevano dov'è che la nostra fecondità si può giocare e hanno cominciato ad andare in questo istituto, si sono lasciati toccare da questo bimbo che era là sempre da solo, abbandonato e hanno cominciato ad andare a sorridergli, a carezzarlo, a parlargli e poi dargli da mangiare e poi a portarlo fuori e la psicologa del centro gli ha detto scusate questo bimbo sta cambiando ma voi potreste prenderlo in affido e poi invece è diventata un'adozione. Sul sito famigliaaccoglienza.it tante informazioni e testimonianze alla scoperta delle famiglie che accolgono i figli e le figlie di altri come propri per dare loro una possibilità in più. Le coppie che vogliono fare l'esperienza di un affido, di fronte a cosa si trovano e che caratteristiche devono avere? Allora noi diciamo che l'accoglienza è il cuore della nascita di una famiglia da partire dalla coniugalità, dall'abbraccio tra marito e moglie quindi l'accoglienza è caratteristica della famiglia poi quando questo uno lo vive, se ne rende conto può cominciare a dire mi apro a qualcun altro e quindi non c'è una specializzazione c'è un percorso da vivere fatto di incontrare altri che l'hanno vissuto spesso è il primo suggerimento perché no? Perché non lo posso fare anch'io? E quindi lì comincia un percorso che è fatto anche di formazione di riflessione, di prudenza non è che noi vogliamo salvare il mondo ma noi vogliamo vivere l'accoglienza e ci siamo accorti che questa è una strada da condividere con chi ne ha bisogno una strada da condividere anche con chi ci accompagna in un'amicizia costruttiva Cos'è stato per te l'affido? L'affido è stato un imprevisto nella famiglia è stato cominciare ad aprire la mia famiglia io ho tre figli naturali è un figlio in adozione a qualcuno che ne aveva bisogno io ho fatto il pediatra qualcuno è venuto soltanto perché aveva bisogno di un luogo in cui vivere la giornata fare i compiti, mangiare e stare in un luogo che potesse dargli un po' di spazio qualcuno è arrivato invece perché proprio aveva bisogno di una famiglia a tempo pieno per cui è stato lasciare entrare un imprevisto pieno di bene nella nostra vita è una cosa tra l'altro che io ho notato che sia chi è entrato stabilmente per anni nella mia famiglia chi è entrato anche soltanto il pomeriggio tre volte alla settimana è diventato una storia di legami che poi è durata nel tempo